Va bene dai, c'è di buono che così siamo riusciti a vincere già nel primo video Ce l'abbiamo fatta, brava Rebecca! Carissimi amici, è arrivato per il YouTube E oggi siamo finalmente qua su Horror Brawl Il gioco multiplayer con i personaggi di Mr. Meat, Ice Cream, Evil Nun Finalmente è uscita la versione definitiva e la proviamo qua insieme Quindi che dire partiamo subito, ma come sempre siete qui sotto tantissimi like Se like che lascerete sarà pari, il personaggio associato a voi sarà Rebecca, la figlia di Mr. Meat Se invece like sarà dispari, il personaggio associato a voi sarà Sister Madeline, la sua retta di Vol'Nan Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati Iscriviti per il canale con la campanella attiva, così anche voi farete parte della Panino Family Partiamo subito, cominciamo, non vedo l'ora di tornare qua in partita Che poi in realtà io avevo già fatto una partita prima Però poi i server sono crashati, sono andati fuori uso E quindi la partita che ho fatto, boh, è stata persa Allora, vi faccio vedere prima qua brevemente le cose che sono state aggiunte rispetto alla beta Hanno avuto ad esempio qua la possibilità di personalizzare i nostri cari amichetti personaggi Ad esempio con l'emote, adesso non ho soltanto una Insomma con varie cose, qui abbiamo le armi che possiamo scegliere per la nostra cara Rebecca Tante belle cose, no? Poi c'è pure lo shop dove possiamo comprare varie cose Come ad esempio delle skin particolari Guardate qua la sua retta Rosario d'Oro La sua retta Rosario d'Oro, bellissima quella skin Varie cose, armi, emote Poi c'è pure il pass, l'horror pass Stagione 1 che si chiama ritorno a scuola Dove noi dobbiamo completare una serie di obiettivi Una serie di missioni Per poi pian piano sbloccare nuove cose Ad esempio qua io ho sbloccato queste monete 100 monete, le prendo volentieri E poi ho sbloccato pure questa arma Arte oscure, arma a distanza La prendiamo, perfetto Torniamo indietro, ah no però guardate qua Ci sono pure le sfide da questo lato Ci sono le sfide quotidiane Quelle che ogni giorno verranno messe E poi le missioni stagionali Ad ogni stagione ci saranno sempre nuove missioni da fare Insomma qua potremmo fare una grande serie su questo gioco Una grandissima serie E poi le modalità C'è la modalità solo E pian piano verranno messe poi la modalità coppia La partita privata E tante varie cose Andiamo qua in partita Colleghiamoci E giochiamo insieme In questa partita comunque Non mi limiterò soltanto a cercare di vincere Voglio pure farvi vedere le nuove zone Che sono state aggiunte Rispetto alla versione beta Ebbene sì, hanno aggiunto delle zone nuove da esplorare E le vediamo insieme Vai, sta caricando finalmente la partita Finalmente si sta caricando Andiamo qua e giochiamo Ok, si comincia, si comincia Che posto è questo? Dove siamo? Tipo una sorta di bagno Ma bella sta cosa Allora io direi di prendere questo Che può sempre servire Una chest Vediamo cosa c'è dentro Apriamo Allora non so se riesco già a vincere in questa partita Ci provo Però vi dico già che è la partita che ho fatto prima di cominciare L'avevo vinta Peccato Sempre quando faccio le cose e le partite belle Non vengono registrate qui Dove sono finito? Un altro posto Un'altra chest Apriamo Vediamo cosa c'è Uh, tanta bella roba Tanta, tanta bella roba Ma io direi di mettermi già una bella arma Perché non si sa mai Questa porta No Le porte che sono chiuse Ci sono le porte chiuse Ma che roba Aspettate Io me ne esco fuori No, non posso perché non si può saltare Sì, aspettate C'è un pulsante di salto Perfetto E qui siamo fuori nel cortile Che qualcuno ha già perso la vita È già stato eliminato Va bene Vediamo se riusciamo a trovare gli altri giocatori Siamo in 14 in totale Non so se riesco a trovare gli altri Dove sono? Ne sono nascosti tutti quanti gli altri Lì c'è già Aspettate Vi faccio vedere qua Questa chiesa Che è nuova C'era già comunque nella versione beta Però era chiusa Non si ci poteva entrare C'era davanti un furgone che lo bloccava Ma adesso possiamo entrarci Possiamo esplorarla Vediamo cosa c'è Anche qua armi Qualcuno forse è stato colpito No, qui c'è un armadio Vediamo se c'è qualcosa di utile Altra roba Altre mele Va bene Qui c'è una cesta No Di là che cosa c'è Sì, c'è una cesta Andiamo a vedere Vediamo questa cesta cosa nasconde Io però mi guardo intorno Che non si sa mai Non si sa mai Se c'è qualcuno Un qualcosa Vediamo, vediamo, vediamo Cerchiamo di salire Vediamo cosa troviamo di sopra Gli altri giocatori Che fino hanno fatto Non riesco a trovare gli altri Proviamo a vedere se da qua Possiamo vedere qualcosa Uh, ma stiamo salendo Ma cosa? Ma che posto è? Ma che è quella cosa lì davanti Una pecora ci sta Abbiamo pure trovato una pietra del caos Perfetto Se ne prendiamo quattro pietre del caos Possiamo diventare il personaggio horror Che in questo caso è Sister Maddalene Ecco dove stanno tutti quanti gli altri Eccoli dove stanno Allora, vediamo Vediamo, forse mi hanno visto No, si stanno eliminando tra di loro Io però non vorrei stare qui a camperare Vorrei buttarmi nella mischia Anche al costo di perdere Ma io voglio buttarmi nella mischia Quindi andiamo qua Veloci, veloci, veloci Siamo rimasti in dieci Dieci giocatori Ce la faremo O non ce la faremo Proviamo a vedere Qui c'è qualcuno Proviamo a vedere qua Non c'è niente Non c'è niente Adesso però Proviamo a vedere da quest'altro lato Io com'è che esco già di qua Io mi sono già perso Mi sono ufficialmente perso Qui c'è qualcuno Proviamo a vedere se c'è qualcuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Via, via, via Corriamo, corriamo, corriamo Andiamo da questo lato se c'è qualcuno Qualcuno che si nasconde nei paraggi Non c'è nessuno Va bene Amichetti Siete da questo lato Dove sono? No, no, seriamente Devo dire che secondo me Dovrebbero mettere più giocatori in contemporanea Perché effettivamente 14 giocatori Ah, eccolo là Ho trovato qualcuno C'è qualcuno lì dietro L'ho visto, l'ho visto C'è un William C'è un William No, chi è? Un Jay Non ne ho idea Ok Sciottiamo, sciottiamo, sciottiamo Colpisci, colpisci, colpisci Dove è finito? Dove sta andando? Il portale di Nasrath si sta aprendo Si sta aprendo Colpiamo Elimina, elimina Via, di là, di là Sto il portale di Nasrath Di là, di là Dove è finito? Ho perso l'altro mio avversario Ma dove sta correndo? Mi sa che quello là vuole soltanto correre e scappare Non vuole vincere Via, via, via Colpito, colpito Colpiamo anche lui Ok No, 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 no Le munizioni, le munizioni Mamma mia È immortale sto coso Lo sto colpendo 3000 volte Su, colpisci, colpisci, colpisci Dai, 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 dai Ok È eliminato, eliminato Quanta bella roba che ha Ma una bella pietra del caos Non mi dispiacerebbe Uh L'abbiamo trovata L'abbiamo trovata Adesso però Io vorrei un po' rigenerarmi Posso usare la mela per rigenerarmi? Sì Avrei bisogno veramente di tanta rigenerazione Mangia, mangia, mangia Ok Perfetto, perfetto Mangiamo l'altra mela Mangiamo l'altra mela Abbiamo un bel po' di munizioni A posto Un bel po' di energia Vediamo qua se c'è già qualcuno Verso il portale di Nasrath C'è qualcuno? Mi sa di sì Mi sa di sì Non vedo nessuno nei paraggi Non vedo nessuno Però mi sa che qualcuno arriverà Molto molto presto Amichetti Dove siete nascosti? Siamo rimasti in tre Siamo rimasti in tre Fra poco verrà qualcuno Sicuramente Sicuramente Qualcuno forse si è già messo nei paraggi Si sta già camperando Me lo sento Me lo sento No perché qualcuna volta C'è gente che si nasconde Dietro un qualcosa Ok Vediamo qua Se c'è qualcosa Apri l'armadio E nessuna pietra Mi servirebbe una bella pietra del caos Andiamo 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 Forse Però devo cercare di non stare fermo Non devo stare fermo Vai 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 Rebecca Rebecca Dai che ce la fai Ok dai 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 Spero soltanto che qualcuno Non mi colpisca da lontano Io mi guardo intorno Mi guardo intorno Non si sa mai Dai che forse l'abbiamo vinta Forse l'abbiamo vinta Prima partita La vinciamo Sempre se all'ultimo Non mi sciottano Che mi è già successo Mi è già successo Che all'ultimo mi hanno colpito Ma gli altri che fine hanno fatto? Va bene Abbiamo vinto Ma gli altri Ma dove sono? Dove sono? Va bene dai C'è di buono Che così siamo riusciti a vincere Già nel primo video Ce l'abbiamo fatta Brava Rebecca Sì quando ho provato io il gioco Per i fatti miei L'ho provato con Jay Ero riuscito a vincere con lui E adesso abbiamo vinto Anche con la nostra cara Rebecca Sì Il tuo grado 1 Primo grado Perfetto Allora abbiamo vinto molte cose Tipo pure punti esperienza Buona sta cosa Sfida in corso Abbiamo pure vinto una sfida Che consiste Scappa dal portale di Nasrath In una partita Poi sopravvivi 7 minuti In una partita con Rebecca Siamo sopravvissuti in 5 Perché la partita è già finita E per raggiungi il top 5 In 5 partite Perfetto Adesso Usciamo un attimo Voglio vedere qua Cosa succede se provo Potenziare i miei personaggi No perché adesso posso potenziare Sia Jay Vado qua su migliora E vediamo qua Allora Miglioriamo in questo caso Perfetto Mi aumenta tipo la salute Perfetto A posto Poi voglio anche migliorare Rebecca Che è il mio personaggio preferito Cioè Rebecca è il mio personaggio preferito Miglioriamo più che possiamo Mamma mia Non posso più migliorarla No Però posso sempre migliorare Jay So migliora Migliora Perfetto A posto Tocchiamo accetta E adesso proviamo Rebecca Anzi proviamo questa volta Jay In modalità potenziata Visto che prima abbiamo usato Rebecca Usiamo Jay E si parte Tra l'altro qua Quanto mi manca per completare il passo Posso sbloccare qualcosa No qua ancora bloccato Tutto bloccato Vabbè Pian piano Pian piano si sblocca tutto Tocchiamo play E si parte E si comincia Purtroppo la mappa è sempre L'Igol School Ma comunque Non vi preoccupate Perché nei prossimi aggiornamenti Metteranno pure la fabbrica di Rod E la fattoria di Mr. Meat Con pure tutti i due personaggi Horror annessi Si comincia Si parte Vai Beh per la fabbrica di Rod 14 giocatori Sono comunque pochi Anche 16 Dovrebbero metterne Almeno Minimo 25 Almeno 25 giocatori Perché comunque Sono un po' pochi Per la mappa enorme che c'è Ed eccoci qua Siamo in partita Si comincia Si comincia Voilà Buonasera amichetti Vediamo qua Apri qua Vediamo tutte le cose che riusciamo a trovare Non so Casse Cesto Ah qui siamo nella stanza di Sister Madeline Questa è la parte dei poli mutanti Apri qua la porta Vai Che bello Ecco facciamoci qua Vediamo se riusciamo a passare Si si scendiamo 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 Voglio subito stare fuori Voglio farvi vedere adesso Quest'altra parte della mappa Che prima non vi ho fatto vedere Praticamente sarebbe La serra che c'è su Evil Nan 2 Questa è quella serra Guardate qua che bella Di qua si può saltare Si si può saltare Perfetto Aiuto C'è qualcuno che mi sta sparando Che mi sta Ma dai Ma subito così Aiuto 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 Però qua mi sparano Che Ma no Vabbè Prima mi era andata bene Quella partita Adesso mi è andato un po' male Ma anche perché stavo un po' girando Ma dov'è che mi sparavano Io non li ho proprio visti Non li ho visti Ma dai Ma che roba Vabbè Accettiamo la sconfitta Vediamo qua gli altri giocatori Anche per vedere un po' Che cosa fanno gli altri Allora Lui mi ha sconfitto Mi ha sconfitto lui Poi chi c'è Quest'altro che sta Che sta facendo questo Ma questo sta dormendo Ma questo dorme Ma cosa fa così Ma guardatelo qua Sta dormendo Invece lui Questo Jay Come si sta muovendo Lost Fisheroff Il suo nome già mi ispira molto Dai che ce la fai Dai che ce la fai Vediamo Le ultime parole Il bello è che gli stavo facendo il tipo Ed è stato sconfitto Poi chi c'è ancora Dreamer Bene Dai anche lui sembra bravo Un bravo giocatore Vai Tutti quanti Tutti quanti bravi Vabbè Dopotutto È la prima volta Questo invece che sta facendo Ma non ditemi che anche lui sta dormendo Anche lui sta dormendo Ma guardate Ma perché ci sono sti giocatori che dormono Secondo me gli è saltata la connessione Mentre giocavano Se no Non posso sapere Perché fanno così Va bene Io allora direi di fare qua Tocchiamo Ash Perfetto E vediamo cosa succede Vediamo se anche con la perdita Abbiamo qualcosa Il tuo grado Dodicesimo Sono arrivato Ho fatto schifo in questa partita Ho fatto schifo Va bene Tocchiamo Ash Vediamo Voglio vedere adesso meglio Cos'è Offerta esclusiva Cos'è Sister Madeline Ma io ce l'ho già Sister Madeline Tra i personaggi horror Ce l'ho già Però ci sono le varie skin Perché se lo tocco Modifica Allora io volendo Potrei pure migliorarla Però Non l'ho ancora utilizzata All'interno del gioco Spero comunque di provare presto Anche gli altri personaggi horror Non vedo l'ora Adesso sto vedendo qua Ci sono tipo dei premi gratis Che si possono avere Se io vado qua Resource Posso avere 60 monete gratis E le prendo subito Ok Vai Accettiamo le 60 monete Perfetto Poi per poter avere altre monete Devo poi comprare con i soldi Devo comprare le gemme Hanno fatto comunque un gioco horror Multiplayer completo Perché non solo dobbiamo andare in battaglia Ma dobbiamo potenziare Anche i nostri personaggi Non basta soltanto essere potenti Ma bisogna vincere Più partite possibili In modo da avere Più punti esperienza possibili E migliorare sempre di più I nostri personaggi Che bello Mi piace sta cosa Mi piace Quindi allora io direi di fare una cosa Direi di fare qua un'ultima partita Con Rebecca Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Vai Ma di nuovo qua in bagno Ma perché in questo bagno Mi fanno cominciare Non mi piace cominciare in bagno Non mi piace iniziare in bagno Qua hanno lasciato una borsa Qualcuno ha dimenticato una borsa in bagno Va bene Apriamo qua le casse Vediamo che cosa c'è Anche dentro gli armadi Se c'è qualcosa di utile Apri qua Perfetto Qui dietro le porte Vabbè io direi di uscire Perché non mi piace stare in bagno Ma lì c'è un oggetto Aspettate Cos'è? Ah ok Soldi buttati Non li posso raccogliere Io li volevo raccogliere Volevo raccoglierli Adesso però Io direi di mettermi già un'arma a distanza Perché qua non si sa mai Infatti Vabbè Proviamo a vedere qua intorno Se c'è qualcosa Adesso Apri qua la cesta C'è qualcosa Sì la cesta e l'armadio Qui dentro Apriamo Uuuuh Una pietra del caos Ma che bello Ma che bello Che per realtà non si chiamano neanche più Pietre del caos Ma si chiamano cristalli del caos Beh buona Mi piace di più questo nuovo nome Uuuuh Qualcuno è stato eliminato Apriamo qua la porticina Quella C'è qualcuno Dice un'armadio Vediamo cosa c'è dentro Dentro l'armadio Apri Perfetto Tanta bella roba Tanta bella roba Andiamo di qua No Ma io posso scendere di qua Posso scendere Non posso scendere Sì che posso C'è la rampa C'è la rampa Che è stata giunta Per fortuna Ed eccoci qua di nuovo In cortile Stavolta non ci entro Dentro la serra Non ci entro Che poi finisce come prima Che mi hanno sconfitto Vediamo qui Uuuuh C'è qualcuno C'è qualcuno Dove vuoi andare Dove vuoi andare Che ci penso io Chi Ma chi Ma dov'è Ah ecco Su su Colpisci 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 No Sconfitta Sconfitta Che è che mi ha colpito Che è che mi ha sconfitto Va bene È stato bravo È stato bravo Io sono uno che Accetta le sconfitte Vuoi smettere di guardare la partita Sì usciamo Tocchiamo a esce Va bene Dai Allora direi di fare una cosa Direi per il momento Di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere quante vittorie Avete già fatto voi Su Horror Brawl Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi racconto Spalliciate Cazzo Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buon panino a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti